Eccoci qua mister, 2-0 primo tempo, magari pensavo di aver messo la partita in cassaforte e poi un 2-2 finale, cosa ha da recriminare o va bene così? Quando sei a Porto Duaro, anche se vinci 2-0, sicuramente non pensavo di aver già metto la partita, è ovvio che in dispogliatoio avevo chiesto ai miei ragazzi di fare attenzione su tutti i primi minuti perché loro si sarebbero rimessati nel nostro metà campo, purtroppo è un episodio, ci ha penalizzati e quindi su 2-1 Porto Duaro sicuramente ha preso vitalità e ha dimostrato insomma di essere un'ottima squadra, nonostante questo se facciamo 3-2 alla fine probabilmente non dobbiamo niente perché ero di occasioni, adesso ovviamente io sono una mente calda quindi potrei anche sbagliarmi, ma mi sembra che come occasioni non abbia avuto grossissime occasioni di Porto Duaro, mentre noi alla fine potevamo anche fare anche la regola, comunque ci teniamo a questo punto che per noi è importante e andiamo avanti. Il rigore lo trovate giusto? Il rigore, scusi, il rigore dato al Porto Duaro? Sì, secondo me mi sembrava questo rigore. Siete riusciti a fare la partita che avevate preparato? Sì, dopo il secondo tempo il loro Porto Duaro ha cambiato un po' modo, quindi avevo fatto un pochino fatica a capire come erano messi in campo e dopo ci siamo un po' assestati secondo me forse abbiamo finito meglio di come avevamo cominciato il secondo tempo. Ultima domanda, il Covid quanto vi condiziona, se vi condiziona? Ma niente, facendo attenzione, facciamo anche al lavoro e… Non vi penalizza nelle preparazioni o quant'altro? Voi ancora non siete stati toccati? No, 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 fortunatamente no. Speriamo anche di non essere problemi. Nel modo stesso che partiamo tutti quanti al nostro piano, noi non siamo penalizzati insieme Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.